Il nome è scherzosamente preso a prestito dal libro La Grande Fuga dell'Ottobre Rosso, cui è tratto il celebre film. In effetti, TIF-1 e TIF-2 molto ricordano il sottomarino di Sean Connery, ma siamo lontani dal genere. TIF-1 e TIF-2 sono due veicoli intelligenti che non necessitano della presenza dell'essere umano né della guida a remoto per il loro utilizzo e la loro finalità. Programmati dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Firenze sotto la guida del professor Benedetto Allotta con la collaborazione del Centro di Ricerca e Ricopiaggio di Pisa, insieme a NEMO, piccolo veicolo a guida remota, da oggi sono impiegati in una missione archeologica nelle coste di Israele. Le coste israeliane, infatti, sono popolate di relitti di varie epoche e plausibilmente nascondono un villaggio neolitico sommerso, scoperto nel 1984, che parrebbe estendersi su una superficie di 40.000 m2. Non è Atlantide, ma un sito di grande valore scientifico, tanto che l'esplorazione delle rovine ha messo in circolo uno scambio di competenze internazionali. Un gruppo di archeologi israeliano-americano dell'Università di Rhode Island e di Louisville ha chiesto la partecipazione di un team dell'Università di Firenze, che questa mattina è partito in missione. Le tecnologie di cui sono dotati i due robot sottomarini permetteranno loro di ottenere immagini georeferenziate che serviranno per una ricostruzione tridimensionale dei siti archeologici israeliani in cui si potrà navigare come in un videogioco. Come spiega il professore Allotta, la missione si svolge sotto il coordinamento dell'autorità competente in Israele per la tutela e la gestione dell'enorme patrimonio archeologico del paese. I due tifoni potranno localizzarsi e comunicare grazie a dei modem acustici e anche in assenza di segnale GPS. Questo è molto importante per le applicazioni archeologiche, afferma Allotta, perché permette di associare una data immagine al posto esatto in cui è stata acquisita. Questo tipo di tecnologie robotiche ha segnato una svolta importante nelle attività di perlustrazione dei fondali per capacità di localizzazione e individuazione dei tesori sepolti a costi relativamente contenuti.